Studio Immobiliare Colombo ha il piacere di presentare ottima villaschiera con giardino privato inserita in verde e tranquillo complesso residenziale. Al piano terreno si accede all'immobile direttamente dal giardino di 20 metri quadri con porticato. Entrando troviamo ingresso, ampio soggiorno con cucina abitabile a vista, un bagno oltre ad un ulteriore grande portico e giardino di 40 metri quadri sul preto. Al piano interrato di 50 metri quadri, taverna con lavanderia e accesso diretto al box doppio in larghezza. Al piano primo troviamo una camera doppia con cabina armadio completa di bagno padronale, una seconda camera con balcone e un secondo bagno. Musica Grazie a tutti.